Bambini separati dalle loro famiglie, fatti partire per un altro paese senza sapere se sarebbero mai tornati. No, non stiamo parlando della vergognosa decisione di Trump di qualche mese fa, quando ordinò di separare i figli dai genitori che tentavano di attraversare il confine col Messico, ma di un episodio lontano nel tempo e opposto nello spirito. L'operazione Kinder Transport, che giusto 80 anni fa, nel 1938, consentì a migliaia di bambini ebrei di scampare alla Shoah grazie al governo inglese, che raccolse un appello della comunità ebraica britannica. E così circa 10.000 bambini provenienti da Germania, Austria, Ciecoslovacchia e Polonia furono mandati nel Regno Unito presso famiglie affidatarie, ostelli e fattorie. Il regista dell'operazione fu Nicholas Winton, nato Vertheim, anche lui di origine ebraica. Per raccontare questa impresa di umanità è appena stata aperta una mostra a Los Angeles, negli Stati Uniti, che all'epoca non parteciparono al Kinder Transport. Anzi, il Dipartimento di Stato ostacolò l'ingresso degli ebrei negando i visti e un'operazione simile al Kinder Transport, la One Thousand Children, che portò oltreoceano 1.400 bambini ebrei, non ebbe alcun aiuto dal governo di Washington. Sono convinta che abbiamo molto da imparare dalla storia e se non studiamo cosa è successo in passato è destinato a ripetersi. Una delle idee originali che avevo era di includere citazioni personali di ognuno dei sopravvissuti che esprimessero l'ansia, il dolore, la tristezza e l'orrore di essere separati e realmente strappati alla loro terra. Senza contare l'angoscia successiva, come racconta oggi uno di quei bambini. Quando finì la guerra non vedevo l'ora di incontrare i miei genitori e mio fratello più piccolo. Tutti festeggiavano, cantavano e ballavano, ma io stavo male perché non sapevo se fossero sopravvissuti. E poi giorni, settimane, mesi, forse un mese. Alla fine mio fratello e io dovemmo ammettere che non li avremmo mai più rivisti.